Strumentazione avanzata unita a sapere competenze, la ricerca applicata è finalmente realtà anche in Abruzzo, dove un nuovo demonstration center è stato inaugurato, all'interno tecnologie che spaziano dalla manifattura additiva alla realtà aumentata dai robot collaborativi alle cellule robotiche. Si è svolta infatti nella sede di Fameccanica la conferenza stampa di inaugurazione del demonstration center promosso da Confindustria Chieti Pescara, Fameccanica Abisaid e Fraunlofer Italia, primo vero progetto di ricerca industria 4.0 in Abruzzo. Il progetto intende proporre e rendere possibile operazioni di open innovation che oggi sono necessarie alle aziende per tendere all'eccellenza. Abbiamo pensato questo progetto un anno fa, abbiamo analizzato quelle che erano tutte le tecnologie presenti sul mercato che potevano interessare soprattutto al tessuto economico locale. Dopo un'attenta selezione e un convolgimento di questi grossi gruppi internazionali, oggi siamo riusciti a realizzare questo demonstration center con la partecipazione di importantissimi brand a livello internazionale come ABB, come Cuca, come UL Robot, la Dassault System per quanto riguarda tutta la parte software di gestione del virtual commissioning che è una fase importantissima oggi che permette alle aziende di collaudare di fatto, progettare e collaudare l'impianto in maniera virtuale, prima ancora di essere in realtà realizzato. Sì, questo è un progetto fortemente voluto da Confindustria Chieti Pescara, è un progetto che guarda all'open innovation. Qui abbiamo, grazie all'ospitalità di Fameccanica, un luogo dove potremo attivare un demonstration center con i più grandi players mondiali nel campo della robotica, della manifattura additiva, della realtà aumentata. Quindi è una grande, grandissima opportunità che anche grazie a un partner di rilievo come il Franofer, che è il più grande centro di ricerca europeo, potremo mettere a disposizione delle imprese non solo, diciamo, nel nostro territorio e non solo di tutto l'Abruzzo, ma direi anche e soprattutto delle altre imprese che sono limitrofe, nelle regioni limitrofe, al nostro Abruzzo.